Quali immagini e parole possono catturare l'essenza di un legame tra padre e figlia? Anoushka Delon, figlia del celebre attore Alain Delon, ha difficilmente trovato questa risposta nel profondo del suo cuore, condividendo le sue emozioni sui social. Anoushka Delon ha pubblicato due foto, finora mai viste, che la ritraggono in compagnia del padre, Alain Delon, purtroppo scomparso. Queste foto, accompagnate da un messaggio pieno di nostalgia, rivelano il forte legame che univa Anoushka al suo amato genitore. Le parole scelte per accompagnare queste immagini, sono un frammento della canzone Ye Time e Tu Sais di Alain Delon, e trasudano amore e mancanza. Ti terrò sul mio cuore. Per spazzare via la mia paura, è la traduzione dell'emozionante messaggio che testimonia l'intimità di questa relazione. Il profondo rapporto tra Anoushka e Alain Delon, figlia di Alain Delon e Rosalie Van Briemen, nata nel 1990, Anoushka è stata una presenza molto importante nella vita dell'iconico attore francese. I due hanno anche un figlio, Alain Fabienne, nato nel 1994. Oltre a loro, Alain Delon ha avuto un altro figlio, Anthony, nato nel 1964 dal suo matrimonio con Nathalie Delon. In un'intervista al programma Verissimo, Anthony Delon ha parlato di come Anoushka fosse considerata la figlia prediletta di Alain. Tuttavia, non ha mai sentito il peso di questa preferenza, godendo di una sua indipendenza. Ha anche accennato alla possibilità che Alain Fabienne, potrebbe aver percepito la situazione in maniera diversa, sottolineando che i legami familiari possono essere molto complessi. Amore paterno e ringraziamento di Anoushka. Anoushka ha più volte espresso il suo affetto verso il padre, riconoscendo la fortuna di aver avuto un rapporto tanto intenso e autentico. Alain Delon, è stato descritto come una persona dai molti contrasti, ma con un grande cuore. Anoushka ha raccontato di una relazione con il padre basata su fiducia e perdono reciproco. Ringrazio la vita tutti i giorni per questa bellissima relazione, ha detto, mostrando quanto Alain fosse centrale nella sua vita. Il ricordo di Alain Delon trovava vita attraverso le parole e le emozioni di Anoushka, che non smette mai di rendere omaggio a suo padre con amore e gratitudine. La storia di entrambi è la prova di un legame familiare che non conosce barriere di tempo o distanza. Le riflessioni di Anoushka ci toccano profondamente, ricordandoci quanto preziosi siano i momenti condivisi con le figure più care. Un amore così speciale tra un padre e una figlia può davvero estendersi oltre la vita. E voi, avete qualche ricordo indimenticabile con un genitore o qualcuno che vi ha lasciato un'impronta nel cuore? Le parole di amore sono come il vento, si lasciano sentire ma non si vedono, così scriveva Luigi Pirandello, evidenziando l'imponderabile potenza dell'affetto e delle parole che lo esprimono. La dedica di Anoushka Delon al padre scomparso, Alain Delon, incarna perfettamente questa riflessione. Attraverso le parole della canzone Ye Time e Tu Sais, Anoushka non solo rende omaggio al padre, ma ci ricorda come l'amore, in tutte le sue forme, sia un legame indissolubile che trascende il tempo e la morte stessa. Questo gesto di affetto pubblico, in un'epoca dominata dai social, diventa un faro di umanità che illumina la notte del dolore con la luce della memoria e dell'amore eterno. Un messaggio potente che risuona in ciascuno di noi, ricordandoci di valorizzare i legami affettivi che arricchiscono la nostra esistenza.